bravi bravissimi grandi maestri di dove siete bellissimo e quando è che andremo ad amalfi ma voi ci avete un'agenda troppo piena io salutato a chi lo signor lo dobbiamo andare ad amalfi in occasione che mettiamo la madonna noi cittadini della penisola quando sarà ruba in nove anni fa la madonnina subteci rietta a gemelle il nostro maestro pastoraro federico iaccarino a meta adesso fortunatamente i carabinieri è natura da è natura di olanda e la riporteremo nella santa maria del pino il che data martedì 19 approssimamento imminente è un bellissimo ritorno ancora auguri signori e grazie di questa atmosfera che ingenerate in tutta la cittadina approssimamento